Dopo il terribile scontro di Goku contro Cell, è la volta di Gohan. Riuscirà questo nostro a distruggere Cell, nel quale mentre è impegnato a distruggere la nostra galassia? Dove sei Sand? Ora basta, mi hai stancato con questi giochini! Mi hai fatto proprio arrabbiare Cell, ora che sono un Super Saiyan, ti faccio fuori! Esci fuori, affrontami Cell! Gli avevi messo già il tappeto? Il terribile Cell si dimostra un avversario forte e maturo, pronto per il combattimento. Riuscirà Gohan a salvarci dalla sua minaccia? Ohhhh! DRAGON BALL! DRAGON BALL! DRAGON BALL! OH 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 DRAGON BALL!